Il concetto di alta cucina o direi più aggiornato buona cucina italiana è iniziata nel 1977 quando il signor Marchesi aprì a Milano in Bonvesi della Riva. Diciamo in gergo veloce un po' di portierate le ha prese e le ha prese un po' per noi ragazzi che si cresceva dietro nel dietro le quinte. Quindi ci ha fatto un po' da parafulmine e questo ci ha servito per essere un po' più liberi oggi. Grazie.